Nuova e ricca puntata di tanta salute. Io presento subito il dottor Franco Manca del Centro... Ciao Natali. Allora dottore, settimana scorsa avevamo parlato del fatto che l'Andi, ovvero l'Associazione Nazionale della Legge Bersani, sulla concorrenza, per fare in modo che due terzi del capitale sociale... C'è un altro fatto di quel giorno 16, di pochi giorni dopo a due volte. E quindi un grosso di servizio... ...presenti, sempre sul posto, sempre a rispondere a ogni richiesta, ogni domanda. Perché se sono io così, siamo tutti così in studio. Ha guardato i telegiornali, ha ascoltato i diretti interessati. Che cosa ha pensato sulla pelle del paziente, come titolava prima l'articolo che abbiamo fatto vedere? Quello che tu non hai letto finire, citato un professore di Berna, che io già anni fa cittavo i fatti in Croazia, sono nella maggior... Salute, oggi appuntamento speciale perché doppi ospiti con Lorena Marseglia. Ciao Lorena. Già un chilo oggi, un chilo domani e che cosa è successo? Barbara, raccontami un po'. La parte delle spalle è notevolmente più alta.